Inoltre nella scheda vista è poi possibile creare ad esempio tutte le viste di sezione o di dettaglio. Portiamoci in una vista di piano terra e clicchiamo sul comando sezione. Cliccando una prima volta e poi una seconda all'interno del piano di lavoro abbiamo generato una vista di sezione. Lo vediamo graficamente e lo vediamo anche all'interno del browser di progetto. Si è creata una cartella sezione contenente quella specificatamente creata. Poiché abbiamo creato la nostra sezione all'interno di una vista pianta piano terra 1 a 200 caratterizzata da uno stile di visualizzazione con livello di dettaglio basso, uno stile in linea nascosta e una scala 1 a 200. Le caratteristiche in termini di scala, quantità di dettagli e stile di visualizzazione all'interno della nostra sezione sarà coerente rispetto a quello della pianta. Cliccando sul tasto destro e poi vai a vista possiamo aprire la visualizzazione della sezione in questione.